Renzo Di Sabatino è il nuovo presidente della provincia di Teramo. Consigliere provinciale uscente del Partito Democratico ed ex sindaco di Bellante, ha sconfitto il candidato Gabriele Astolfi intercettando anche i voti del centrodestra. Il successo di Di Sabatino ha preso forma nei comuni medio-grandi ed alcune preferenze a sorpresa da Teramo, dove due consiglieri hanno votato per l'uomo del PD. Di Sabatino ha vinto riportando quote ponderali pari a 45.499 contro le 44.745 di Astolfi. Ovviamente soddisfatto del risultato, il nuovo presidente della provincia di Teramo. Ci credevo, nel senso che in queste settimane di campagna elettorale avevo verificato che gli amministratori avevano ricepito il mio messaggio, tra l'altro contenuto anche nelle linee programmatiche che io avevo inviato a tutti i comuni. Che provincia sarà quella di Renzo Di Sabatino? Una grande casa dei comuni in cui i sindaci ritroveranno dignità, ritroveranno il loro ruolo, in cui si sentiranno a casa propria e non ospiti. Da dove partirà? Partirò dall'assemblea dei sindaci, partirò da quell'assemblea che sarà il cuore pulsante di questa amministrazione e che darà autorevolezza e forza al suo presidente. Come ha lavorato in questa campagna elettorale? Cercando di spiegare che era una grande occasione questa riforma. È vero che è stata un po' frettolosa perché ha esautorato i cittadini del diritto di voto, ma è anche vero che l'idea di trasformare un ente intermedio in una grande unione dei comuni, mettendo a disposizione delle risorse umane notevoli, perché la provincia ha un personale notevole, credo che sia l'elemento vincente. Se ce la faremo la provincia avrà svoltato. Il successo di Di Sabatino è stato, come detto, risicato, ma emblematico, visti anche i conteggi di partenza. Di Sabatino era infatti partito svantaggiato con uno scarto di quote pari a 60, poi la rimonta nelle urne.